Si posa direttamente nell'acqua Sì, per cui anche se c'è bagnato Quindi il nero lo fa sia come... Vedi che ci voleva i bicchierini quelli del caffè Perchè li tagli prima Questo qui è una palazzo un po' più dura Però ci stiamo andando Adesso l'ho schiacciato Vediamo se... Un po' di acqua viene giù Perchè l'ho schiacciato Vediamo un po' se tirarlo fuori Asciughiamo Asciughiamo Perchè l'ho schiacciato io perchè è arpa Tutti qui è molle Perchè non te la pressione Ma anche con questo dentro era